Le relazioni sono come dei punti tra le persone, più forte il ponte e più pesanti possono essere i carichi che possono essere trasportati su di esso, ma se il ponte è fragile ed i carichi sono pesanti allora il ponte collasserà e così le parti saranno divise fra loro. Per noi a possibilità questo principio è chiarissimo, mentre spesso le persone cercano di passare il messaggio prestando particolare attenzione alla chiarezza, alla comprensione intellettuale di quello che noi stiamo dicendo, ma spesso anche se l'altro capisce le cose poi alla fine non escono come vorremmo. Curare le relazioni vuol dire poter parlare di qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Se io riesco a rendere solido il ponte, allora qualsiasi sia il peso del messaggio che devo far passare sicuramente la relazione reggerà ed è lì dove si gioca la partita e noi ci collochiamo al bordo di questo campo perché il servizio viene svolto in parte con un approccio di coaching e dall'altra parte con un approccio di metodo preciso per utilizzare il proprio linguaggio nell'ambito di negoziazioni, di conversazioni o comunque nell'ambito della relazione in generale.